Non nascondo un certo imbarazzo per la mia insufficienza a descrivere l'indescrivibile, a parlare con immagini e parole di ciò che è oltre ogni immagine e verbo. Nemmeno il silenzio può descrivere il diana. Il silenzio è un prisma dalle mille tipologie. Il silenzio afferma o nega, ma non esprime. Se noi non assaggiamo lo zucchero, non sapremo mai come è il suo sapore. Così il diana si può gustare, ma non descrivere. Il vero silenzio è assenza di ogni contenuto. La non mente, amanasca, è il vero silenzio, shunya, o meglio, maha shunya. Ove la pura coscienza splende in sé. Dal vasto oceano dei peda, quindi del veda, sorge quella sacra conoscenza che si riversa nelle diverse tradizioni hindù, le quali offrono un'incalcolabile pluralità di vie per realizzare lo stato di meditazione che conduce alla meta ultima dell'evoluzione dell'essere. Nel Gadura, nel Gadura Purana si afferma la meditazione è la più alta virtù, è la più alta austerità, quindi si è devoto alla meditazione. Nella letteratura sacra, la meditazione è menzionata attraverso un ampio ventaglio di definizioni, l'inengua saskrita, e lo più comune è appunto dhyana, che significa essere stabili in di. Il puro intelletto, o meglio, il comprendere con chiaro intelletto e in un senso più ampio esprime devozione, preghiera e sacrificio. Il terzo paga della gloriosa Gayatri, il più sacro fra i mantra, canta di yo yonah prachodayat, cioè possa la suprema coscienza illuminare e proteggere il nostro intelletto. Si evidenzia in questa invocazione la purificazione delle facoltà mentali, che li conduce ad harta vignana, cioè la comprensione del vero significato, e tatuagnana, conoscenza dell'essenza, come qualità del di. Dhyana implica sia lo stato meditativo, sia i mezzi che lo inducono. È una forza naturale di pace e di calma nel campo mentale, che apre e libera l'intelletto in livelli sempre più vasti. Uno stato ricettivo e trasparente, come un terzo lago di montagna. Sinonimi di Dhyana, pur con sfumature diverse, sono Taraka, Bhavana, Nidhyasana, Kalpanam, Pranidam, Upasana, Tapas. Il concetto di Dhyana, quindi, lo si ritrova a partire dal Veda, che pone al centro della meditazione una sorta di eologia del Pranava o Omkara. Il Tevene Pranava indica perfetta adorazione. Pranava è il nome del divino, l'eterna vibrazione e sostanza del suo potere creativo. La sua essenza triplice trova nella visione tradizionale indiana assonanze poliedriche di simbologie. Simile a un grembo, Omkara avvolge l'intero universo e lo supera. Tutto, infatti, è infatti coscienza divina, cioè il Brahman. Brahman è oltre descrizione, ogni descrizione, e non è conscio né inconscio. È oltre l'esperienza di soggetto oggetto. È pura, quieta, immodificabile consapevolezza. Lo stato in cui tutto è negato e nulla può essere affermato. Causa incausata supera i limiti dell'infinito. Il suo colore è il vuoto. Paramavyova. Il suono creativo del Pranava è l'inizio, il mezzo e la fine di ogni cosa. È incomprensibile eternità presente in ogni essere. La sua dottrina nel corpus vedico evolve nel sublime suono della Gayatri. Un inno alla suprema realtà, nonché strumento, che aiuta gli esseri viventi a ritrovare la luce interiore, rendendoli capaci di realizzare la verità. Nel pensiero vedico, l'importanza del mantra è di accertare l'attenta e precisa ricostruzione delle parole e il loro significato individuale, e ponendole insieme con conoscenza intuitiva e ragione. Questo processo deve essere in armonia con la Shruti, Veda, la scienza della conoscenza intuitiva, quindi è detta anche Buddhi. Secondo Yaksha, l'austerità, il tapas e la meditazione tapasa rendono capaci di raggiungere l'altra sponda. Occorre la perfetta comprensione del reale significato del mantra, che lo stesso Yaksha lo definisce come il mezzo primario per ottenere lo stato meditativo, cioè mantra mananat. Il brahman, l'assoluto, è senza dubbio oltre la parola e il pensiero, ma la parola vedica è molto differente dalla parola ordinaria. Il mantra come parola è la intuitiva visione del Rishi, cioè colui che vede la realtà, che va oltre il Tricala, cioè il passato, il presente e il futuro, oltre spazio e tempo. La pratica costante e corretta del mantra porta ad un cambiamento radicale delle impressioni inconsce e da loro un consapevole impulso spirituale. Quando conoscenza e azione e devozione saranno fuse nella meditazione sul mantra, l'ottenimento dello scopo sarà assicurato. E con la Navatantra afferma, privi di questa consapevolezza, i mantra rimangono mere lettere. Anche milioni di ripetizioni non daranno alcun frutto. I mantra vedici sono considerati la sorgente, le radici di ogni conoscenza. Recitare questi supta, che significa bendetto o recitato, e permettere alla mente di fluire insieme alle sue pregnanti suggestioni, vuol dire inalzare la nostra visione interiore alle più alte vette di sublime spiritualità. Con la perfezione dei toni nel quale l'inno è cantato e la chiara comprensione delle idee suggerite nel significato del mantra, la meditazione diventa completa. Nella Chandoghi Upanishad si legge ciò che si chiama Brahman è lo spazio etereo che sta al di fuori dell'uomo. Lo spazio etereo al di fuori dell'uomo è lo stesso spazio che sta dentro, lo stesso che sta nella cavità del cuore. Esso il pieno, l'immutabile, felicità piena, non mutevole, acquista colui che così sa. Allo stesso modo, il vuoto etereo contiene l'universo intero, così quest'ultimo è serbato nel cuore. Un nome del cuore è Hridaia. Il termine significa questo è il luogo. Secondo la visione duaita, cioè dualista, è il luogo dove si incontra il Signore Supremo. Per il monista, la duaita, invece è il luogo del risveglio alla intima identità nella realtà divina del Brahman, dove si uniscono il cuore e la mente. È la sede delle virtù che purificano la mente stessa. Quando si entra nello stato di Amanaska, la non-mente, si apre la porta del cuore. Nell'esperienza della forma e dei fenomeni, lo spazio del cuore appare relegato al mondo emozionale, ma quando la mente si dissolve nel centro, nel suo centro, il cuore si manifesta nella sua vera vastità, come infinito, illimitato, paramakashi. La coscienza personale appare essere limitata, ma in realtà l'individuale e l'universale sono inseparabili. Nessuno dei due può esistere indipendentemente. Può l'onda esistere senza l'oceano o un piccolo raggio di luce nascere senza la luce infinita? Così lo spazio del cuore non può esistere senza lo spazio infinito. Il cuore, il cuore, ridaia, non è uno spazio localizzato nel corpo fisico. È in realtà una vasta immensità avulsa da qualsiasi idea di interno o di esterno. L'unificazione tra l'occhio e il sé avviene nella grotta del cuore. La, il saggio, attinge dai frutti dell'albero delle Mille Grazie, il Kalpataru, che risiede nel cuore e conduce a moksha, al moksha, la realizzazione della pura realtà. Il protagonista di questo scenario, fino ad ora descritto, è il saggio, il deroso della verità, che intraprende il cammino verso la conoscenza del sé. Egli, sottoponendosi a disciplina e purificazioni, diviene degno di poter udire gli insegnamenti rivelate dall'Upanishet. Queste rivelano il cuore dei loro insegnamenti solo a colui che possiede le doti richieste. Tale è la di Karim, ben versato nella pratica del quadruplice gioiello di virtù, la Sardana Ciatustria. La dottrina dell'Upanishet è indirizzata agli asceti, ai monaci, ai saniasi, il cui scopo è l'ottenimento della suprema conoscenza, alla quale si dedicano con austera disciplina, con risoluta determinazione, senza dubbi o esitazioni. Ora la domanda, perché tali insegnamenti sono rivolti agli asceti? La risposta è contenuta nell'essenza stessa dell'Upanishet. Gli insegnamenti di queste scritture, Tupadesha, infatti favoriscono l'emmergere di quella conoscenza discriminante, chiamata Viveka Chiyati, che conduce naturalmente al non-attaccamento, para-vairagya. Tale stato è perseguibile da coloro le cui impressioni inconsce, samskara, sono ridotte allo stato potenziale in virtù del quale si è affrancati dal dolore causato dalle triplice sorgenti. Più rilevante ancora è il fatto che a queste ultime cause si impedisce di produrre debiti negativi che ostacolano o deviano l'aspirazione spirituale ascetica del monaco, saniasi o del saggio. Se le Upanishet si rivolgono a coloro la cui vita è votata interamente alla ricerca della conoscenza suprema, tradizionalmente per i non-asceti o per i capofamiglia invece, sono consigliati testi della Smriti, come Itihasa o Dharmashastra, Mahabharata, Ramayana, Tiruru, Hachakham. I loro contenuti permettono alle persone, pur investite di responsabilità monzane, di perfezionare il proprio karma e dharma in relazione ai ruoli e allo stato sociale che sono chiamati a vivere. Lo studio prematur dell'Upanishat o degli Aranyaka stimolerebbero il desiderio di rinuncia che potrebbe creare all'interno della famiglia e nella vita di relazioni tensioni, conflitti inutili e nell'ipotesi peggiore acerbe sofferenze. I doveri sociali e religiosi si conformano sempre alle osservanze e alle scritture e i primi evolvono sempre in parallelo alle seconde. Col sorgere delle condizioni spirituali quindi adeguate, il mezzo opportuno si presenterà. Quando vi è un sincero desiderio di rinuncia, tutte le tendenze, vasana e il karma, legge di responsabilità, principio di causa ed effetto di ogni azione, rientrano in un ordine naturale, grazie al quale ogni cosa si trova al giusto posto come un frutto maturo si stacca spontaneamente dall'albero. Naturalmente questa apparente dicotomia non è una scelta obbligata, ma dettata da opportunità sociali e tendenze individuali. Ora, in tema all'esposizione sulla meditazione, non posso purtroppo esimermi da trattare, anche se molto brevemente, due concetti. Akasha e Shunya. Akasha deriva dalla regge Kash, che significa irradiare, brillare, e si può tradurre come spazio, anzi sarebbero spazzico. Da Akasha nasce il tempo spazio. Alcuni sinonimi di Akasha, quali Vioma, Hambaram, Gaganam, Kaha, indicano lo spazio come vuoto, sia in ambito macrocosmico, sia in quello microcosmico, mentale e spirituale. In quest'ultimo caso si parla di spazio concepito in relazione alla mente cognitiva. Nonostante tali distinzioni, non esiste una reale separazione dello spazio. I limiti corporei sono infatti puramente illusori. Non vi è dunque alcun ostacolo che si frappone tra lo spazio interno e quello esterno. Esso, quindi, simile a un oceano che tutto comprende, vibra come un'unica omogenea melodia. Nel pensiero espresso dell'Upanishad, la totalità dello spazio, chiamato Akasha or Vioma, è pienezza, purna. Pienezza che sorpassa tutte le direzioni dello spazio. Dico, gis, non solo quello interiore, ma anche quello esteriore. Quando la consapevolezza si espande in tutte le direzioni, si conquista una totale libertà. Akasha ospita nel suo grembo ogni forma di esistenza, mondi, elementi, esseri e tutto altro che muore e nasce incessantemente in esso. Nonostante ciò, lo spazio è il simbolo perfetto di Veiraglia o non attaccamento. Akasha non può essere percepita dai sensi, è inafferrabile, non ha né colore né forma. Quando negli stati contemplativi appare rivestito di colori, non è che ha riflesso della sua luce sugli elementi che contiene. Shunya è il vuoto, mancanza o assenza. Tra le varie implicazioni del termine Shunya, proprio in matematica, si determina lo zero, si definisce Shunya, Shunya Ganita, che non è un numero, ma la matrice di tutti i numeri. Se allo zero si aggiunge o sottrae lo zero, il risultato rimane sempre zero. La radice quadrata dello zero è zero. Lo zero è simbolo dell'infinito. Tale concetto è espresso in uno shantimantra dell'Upanishad. Dice che quello, il Brahman, è tutto. Questo cosmo è tutto. Questo tutto emerge dal tutto. Quello rimane ancora tutto, sebbene abbia ricevuto il tutto da quel tutto. Questo Shantimantra recita la parola Purna. Il tutto è la pienezza. E in questo, sì, in questo senso, essa è l'equivalente dello zero ed esprime chiaramente lo stesso concetto. Lo yoga, ovvero il metodo e stato, si può suddividere in due parti, Purva e Uttara. La prima, come suggerisce la parola stessa, delinea ciò che precede e corrisponde al Taraka. La seconda, la superiore, riflette la manasca. Il Taraka è il mezzo tramite il quale lo yogin imbocca la via alla conquista dei sensi, degli elementi sottili, dei principi fondamentali, tatua e delle qualità guna. Questo yoga sussiste finché non sia compiuto lo scopo. Amanasca, ovvero la non mente, è lo yoga che trascende ogni stato fenomenico. Taraka, con il sostegno dello sguardo interiore, oltrepassando gli elementi sottili da Matra, si esaurisce con lo splendore della luce del Chitakasha, cioè nello spazio mentale. L'amanasca interviene a questo livello per valicarlo ed elevarsi ancora fino alla piena immersione nello stato non duale. Aduaia, nel grande splendore, Mahajorti, qui lo yogi è rapito dalla beatitudine del Paramatma nel suo proprio sé. Amanasca è il distruttore della mente, alla quale toglie la vita. La mente rimane vuota come le mammelle di una vacca svuotate dal latte. Così è la luce che tutto illumina, e da nulla è illuminata, e quindi che possa risplendere in tutta la sua vastità. Come fari nella foresta della corporeità, i due tipi di yoga qui presentati offrono una valida guida per intraprendere e perfezionare progressivamente la disciplina yogica. Scopo primario di quest'ultima è la perfetta libertà da tutti i vincoli che costringono l'essere in tremende prigioni subdele e invisibili. Lo scopo della disciplina è altresì la completa emancipazione acquisendo piena mastria su tutti i fenomeni che governano sia il corpo individuale sia il sistema cosmico. È lo sbocciare meraviglioso della consapevolezza. Essa emana il suo profumo in ogni bocciolo della manifestazione, in ogni essere. Il corpo non è un mero agglomerato di elementi, ma un fiore divino chiamato a maturare. Il corpo è un orvito che intrecciato alla trama degli elementi dell'universo forma il tessuto della realtà spirituale. I differenti ordini di esistenza non sono altro che espressioni ferogenee della coscienza suprema. L'uno, trascendente, appare nella pluralità dei fenomeni e gioca come tempo e spazio pur essendone al di sopra. Dice l'Aleshwari, una mistica Kashmira, dice anche se le scritture si dissolvessero, la parola mistica rimarebbe. E anche se la parola mistica si dissolvesse, la mente rimarebbe. Ma quando la mente è dissolta, nient'altro che il vuoto rimane. Il vuoto si scioglie nel vuoto. Regolarità e sincerità, quindi, sono i segreti del successo. Nella meditazione non si ottiene progresso se si pratica con fretta e con irregolarità. Occorre imparare ad aspettare che ogni passo si consolidi in una reale esperienza. Ogni fenomeno naturale è lento, stabile e continuo, eccetto i terremoti, i cicloni o i peculiari fenomeni che sono distruttivi nella loro stessa natura. Osservando sulla riva del mare, dalla riva, diciamo, del mare, il ritmo delle onde, si capisce quanto le cose procedano lentamente e stabilmente. Com'è possibile vivere indegnamente per sei giorni? E il settimo balzare, la presenza divina, dire salve, è solo qua. La vita spirituale è provare ad accelerare l'evoluzione, non è una chiamata alla rivoluzione. Solo con la mente pura possiamo invocare il Supremo. Più è puro il livello della mente, più forte sarà il flusso della presenza divina. Gli stati più elevati della meditazione non sono accessibili finché l'esperienza non si stabilizza. Lo spirito religioso serve offrire tutto il bagaglio di tendenza al divino, sviluppando ottimismo, uscendo da quella rete di sentimenti che producono un forte senso di impotenza, si risorge dalla melma delle colpe passate. Più errori abbiamo commesso, più grandi peccatori siamo oggi, quindi maggiormente degni della religione. La religione non è per i santi, è per i peccatori. Rendiamoci disponibili affinché la coscienza divina si prenda cura di noi. Abbandoniamoci alla suprema realtà e lasciamo che agisca in noi. Sciogliersi come goccia nell'oceano è la più alta meditazione. Così i Siddha raffigurano, i Siddha sono i perfetti nella visione hinduista, raffigurano l'essenza del diana, così, dice, il tocco del vento non muove le foglie. Le api raccolgono il miele senza i fiori. Questa è l'essenza del diana. Con queste parole si evitano migliaia di volumi. Io quindi avrei concluso. Mi dispiace e mi scuso per magari dare un po' di velocità e anche perché certamente non sono di facilmente forse compressione per chi non è nella cultura dell'India. Comunque sono universali in realtà questi. Quindi mi scuso per questo, ma vi ringrazio dell'ascolto e della pazienza e quindi vi saluto.